Al Badriatica, Martinsicuro, Tortoreto e Pineto dicono no a nuove trivelle in mare. Scaduti 60 giorni di tempo per appellarsi al Tar, i sindaci hanno annunciato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale. L'obiettivo è quello di fermare il nuovo pozzo dell'Eni, con relativo impianto di estrazione degli idrocarburi, che sarà realizzato poco a largo dalla costa di Martinsicuro, perforando il fondale marino fino a oltre un chilometro di profondità. Non è detto che questo pozzo verrà realizzato fuori dalle 12 miglia, anzi non è fatto certo, perché la stessa Eni dichiara che si trova dentro le 12 miglia e questo non è possibile perché la legge lo vieta. È vero che è una concessione che sta un po' di qua, un po' di là, perché le 12 miglia passano esattamente in mezzo, ma quello che sta fuori è la piattaforma, non il pozzo. Quindi, anche guardando gli atti, c'è molta ambiguità e tutto questo, peraltro, risulta anche poco opportuno, in quanto al 30 settembre la data di scadenza per l'approvazione di questo piano, di questo PITESAI, rispetto al quale però oggi stesso ci sono diverse novità. Perché anche qui c'è una sorta di furbata da parte dell'esecutivo, perché anziché proporre un piano all'attenzione dei comuni e delle regioni, che mettesse ordine e stabilisse dove si e dove no, in realtà non è un piano. Si sono limitati a formulare nuovi criteri e quindi le aree sono esattamente le stesse di prima. Quindi vuol dire che Martinsicuro, l'Abruzzo e il mare Adriatico non saranno poste fuori dall'esercizio di questa attività, ma saranno dentro, con criteri discrezionali. Il progetto è stato approvato dal Ministero della Transizione Ecologica. In barba le questioni sollevate da amministrazioni locali e associazioni ambientaliste in materia di salvaguardia dell'ecosistema marino. Le ripercussioni potrebbero essere anche economiche. L'Adriatico, infatti, è il mare più pescoso del Mediterraneo e offre lavoro a circa 10.000 persone. Il settore della pesca, sulla sponda orientale dell'Italia, vale 300 milioni l'anno. Non voglio essere allarmista, ma ricordo che nell'Adriatico c'è una richiesta di poter cercare idrocarburi, liquide e gassosi per ben 30.000 km2. Da parte della Spectrum Geo, 30.000 km2, 5 regioni interessate, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Presente la provincia di Teramo, schierata al fianco dei sindaci. La regione, invece, non è pervenuta. Sulla tematica ambientale, la giunta abruzzese non ha ancora espresso alcun parere. La regione non mi risulta che abbia accepito alcun che, perché la regione avrebbe potuto promuovere il ricorso, anche perché pare che manchi la richiesta dell'acquisizione del parere regionale. Nessuno l'ha chiesto. Non sappiamo se la regione spontaneamente l'abbia mai dato. Non è, diciamo, di poco conto, perché il fatto che la regione Marche, invece, abbia rilasciato un parere e ha potuto consentire alla regione Marche di formulare prescrizioni di carattere ambientale in modo da controllare addirittura il rispetto di queste prescrizioni. Quindi, se la regione, diciamo, è stata latitante, certo, questo non vuol dire che non possa ricorrere, se nessuno gliel'ha chiesto, ma io non saprei dire esattamente se qualcuno ha chiesto il parere alla regione e la regione non l'ha dato, se la regione semplicemente non è stata sentita. Grazie.